ho fatto vedere la piccola perchè adesso viene la oddio vedete che stiamo andando in streaming oddio! oh rocco vedi che abbiamo 5 iscritti andiamo in streaming forza power ma chi ci guarda? guardi che è spiritoso si è! che è spiritoso do you have problem scusami Giuseppe entrate dal footage ci facciamo una scuola un attimo ci sono如果你 tu vuoi baie! qui vede po po davero bello che siamo no 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 bere venguto dal da tu DARKO ahah tu 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 tus hai visto l'analisi ha detto che buonazzo da Danilo chiaramente non era così male Danilo piccolo non era piccione c'è un live ciao power andiamo ce ne trovo un malboro bella raga finita all'ampie ore a modi per sempre oh cazzo vieni qua Rocco Rocco di Nicoletti un po' c'è un ecco quello un medichitto qua sotto un medichitto ok siamo in live ragazzi speriamo che entra qualcuno e basta da tanto culo staccetto ok iniziamo con massetta sera iniziamo con massetta sera eeeh ti sto spellendo porche e perchè ma io menti alza la porco il dillo mi ne bestemmiani figlioli ma che è questo rumore mi ne bestemmiani o non troppo ma tu lo mi 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 il mondo va bene ciao ma perché genti i cerchi i cerchi i cerchi i cerchi ea mapparare se vuoi essere sponsorizzato va bene il campanello nani 10 ma che voglio almeno voglio fare qualcosa nella vita mamma il live ma che c'è nel live Gino? perché sono nella tua lobby e allora aspetta no speriamo che non mi ha ammazzato mamma se mi ha ammazzato mi ha caldo tutti i santi dici ma è buon pochino di dare all'ostricana ammio un la re e alla fine un la re ma ma un la re uuuuuu attenzione dice basta non ti posso fare più questi palli che cavolo allora io che posso mettere, mettono tu, 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 tu e noi diciamo io ho detto sempre che un bordello di skin mi sono messo le skin che te li metterà solo così li usa tutte no scambola dalle mette a mozzi diciamo mi accetto pure pure ai piccoli pure le cose pure tutto pure 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 tutto poco poco pure tutto 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 è provata giure da un massimo stiero perché non mi fa perché non mi fa il ma questo il gioco al mouse sai perché questa è vero per te la rarmi la fa c'è il gioco ma è che allora c'è una scossa ma dove sta andando non butta l'anno bella iscriviti al canale attivi la campanellina e condividi questo canale se vuoi restare iscriviti al mio canale che siamo in streaming bravo mettere in qualche bianco bravola nervosisco mi ha smutato mi ha smutato ho chiesto sui amici ti vuoi iscrivervi al mio canale iscriviamoci detto che hai un canale di merda vabbè io ct ok iscritti senza video e sei un p-book redone e ciò che ti dv arrivando io la mano vai leo che credi in te io solo un po' vai 5 mi piace secondo ho iscritto pure ho attivato la notifica condividi con tutti dai che no 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 f*** note il ciclo fino a cosa se condivido in sui link su gruppo ragazze dipendo in giro dicono che sono uno spagnolo per giro di Felice felici se ne esce ragazzi si mangia da 20 iscritti che ciò o marchi della montagna ai letteratura avevamo la coscienza di zeno no la parte la coscienza di zeno giusto quelli prima che non mi ricordo compare il battesimo fascista però non lo so arriviamo a 50 iscritti da corno ha capito ci piace che urla si sono a casa mamma quanto mi fa ridere mi fai spettacolare allora me lo ricordo il battesimo fascista io ho fatto il riassunto e attività siamo in live cazzo cazzo c'è devo arrivare a livello 38 perché voglio il chiave non mi ricordo scusate ragazzi iscrivete condividete è tutto dai ragazzi volete una notifica ragazzi ultima ora salve da picco non mi colpa parte della mappa e dal battesimo fascista e troverai a roma che non ha scelta ma chiara l'ora un piste non ho capito chi mi piace come fuori sì domanda ragazzi non bestemmiare fra bra non bestemmiare e ci vedete voi dal mio canale facebook il suo nome ragazzi appena alzermo un coglino gli iscritti poi andremo dall'altra immare è che i gerbi tecnici che usi a voglia a siano trova me la ricordo che pagina era un sacco contro la ora fa un sacco fa un sacco l'ha trovato fra l'ho trovato per sbaglio l'ho mutato quando ha finito di giallo di giallo quello che vengo 44 infilare da lui che è la casa rossa ebro ebro ma perché non andiamo nella casa blu è benvenuto nella casa blu vieni nella casa non andiamo nella casa blu leo c'è parla ancora il suo discorso ok leo ma che cazzo dei uomini vieni da me un altro stoccato cosa leo si sono le mani a leo mi sono fatto 2 kill io ma c'erco la gente io quelli ti posso dare un po' per il nonno verde quando vieni te lo do ma perchè mi butta le armi solo non mi giusto niente guardo non ho fatto da ammazzarli me lo chiedo ma c***o che la tua bravura si sono le mani a ma l'ha roma da me perfori prima che ore vuoi a oh me lo sono fatto e borsa tenito un po' di una verde però c'è la c'è la ho voluto ballone però non la posso dire io scendiamo l'ho cacciato dal party sono come un baiare ma vedi che l'ho fatto per te ha detto che Cicci non mi smuda ma c'è gente da me da me da me addirittura stai avendo un volo stai avendo un po' c'è un po' c'è un po' c'è un po' che è un po' che è un po' non è scadato allora allora a me la vera la vera si è in mezza la camberta oh condividiamo sta live dai condividiamola ti mando il link mi hai espulso da parte ti metti non si iscrivissime dai ai ai che ciò io proporrei per la fondazione del vedi se stanno domani nella live sono stato sì va bene sono stato ma in visalo per lì che non deve fare il bordello no 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 sono stato costretto mi piace mi a lui sta dicendo perché stiamo chiedendo io al fatto è leo e al volto è cacciata a leo non so perché no non è vero non è vero non è vero anche la vocale di giccio che è proprio guarda è una persona guarda di giuro ma di giuro orribile cioè non c'è domani melace io ho fatto leo al fondo a volto dai a basta non ma ne è vero leo manda non mi credo me l'ha ricattato è verissimo ciccio sono stato costretto mi ha ricattato mi ha detto che hai rompervi le scatole mi ha detto che sei un ciccione mi ha detto che sei un aristocratico cazzo vuol dire mi chiamano male se mi blocchi guarda ti vuoi io benissimo invitalo invitalo ciao a sapere un buco non dico altro ok metà non so così ma lei va blu 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 non dovete non hai capito eh io no ma lo so tagliato tutto complimenti AHHHHH ho messo i piedi di panzeria però non carica me lo chiedo che stai facendo? che stai facendo? da me vieni da me che c'è un cecchino che c'ho un no oh si vieni da te scendi so che io ce l'ho bene e non puoi passare da me già faccio scherzi bene dai con no io ti già dai lo so gli schien si lanciato l'agenda lo vedo la la scena no ce l'ho già il 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 l' non ho un po' hai detto che mi pareggi tu l'arte che non c'è mi chiamò a a a a oggi ciò bravo a a a ehi amici almeno i miei cavolo ma ne ha dai primo ballerino è bello essere busciati tra i colpi in avanti e lo scanni non mi è bucciole non mi è bucciole portogli di sotto scendi colpi in avanti e lo scanni tutto male vai francesco franco aspetta e si chieda la mia alti lo senti camion burlone ma alfo lo senti anche gianna dan no a francesco di di smutarmi bravo smutafra da franco entra mi dici di smutarmi bravo camion burlone ma è inaccettabile mi devi dire di smutarmi mi devi dire di smutarmi di smutarmi fa fatemi a madre di smutarmi mi chiede se sempre che si avanti quel cojono e metti non riempi chi c'ho però dai chi c'ho eh smudami eh smudami smudami eh smudami mi smudami mi smudami sulla play e non ti sento no ok ok ora ti sento vita ti sento eh ti senti iscritto al mio canale si io si ho spammato pure sui miei gruppi bravo 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 io date che io c'ho qualsiasi a scuola eh 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 dove andate a scuola ai superiore di voi panella io a botta a botta a botta a tando anni io vado al panella dove a volta io volta madonna io al vinci io al panella dai però ma ma mille volte meglio il vinci del panella ma che caspita dici passare la cosa cazzo no del panella forse il panella se se sei bravo ti prendono pure in una fabbrica e almeno il giorno dopo lavori ah borghetto ma un pincio però sono sempre i miei rossi no 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 andiamo qua no 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 niente ma comunque l'ho fatta tu non ti prego borgo scaccia il porto ma non ho capito l'aspettato di chi è ma ancora allora è è una persona è una persona è una persona raga zitti non potete portare casa blu casa blu casa blu casa blu casa blu non ci sono non ha trovato la mappa del tesoro alla fine della nonna blu alla sera c'era roma della nonna io lo dico problemi ma che è che piazza trappole sotto è stato zitto no magari tu hai trovato una mappa nelle case porta al punto dove l'ho messo nella mappa ci lo so eccola qua lo lo so lo lascia dai pagano 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 ma che sto scappare ciò quindi facendo avete un po' i ragazzi un po' dal nonno blu verde niente verde a casa nostra e vieni qua dove siamo io ti faccio un regalo per i set per i sei iscritti per i set per gli otto uomini buono ragazzi almeno a mille dove mille dopo i mille dopo i mille mica c'è col tessi maia vabbè tutta nella mappa dove è borsa che ciò vabbè allora aspetta che adesso vuole ragazzi compa no inoscurato ma come ce l'hai come ce l'hai erano leggendari tra voi quello viola lo voglio io che c'è là fuori dove c'è pure la la croce alla fine sana alla fine sarebbe l'ho scelto con poche mi dove ok io trovo venire quadro anche se venire qua c'è una scelta ma sta mappa che c'è a trovare il tesoro ma il tesoro a picco volare qua sotto è una casa che ti darmi leggendari a picco ma si l'ho visto davanti raga me la segna tipo verso di qua ne ho capito ma alla fine piano piano camminando da lì dalla sotto la seguita io ero a picco volare lo seguita me io ho un'altra giampa me ne ne dai una giccio ma che c'è una madonna dove c'è un sito bello voglio arrivare si vuoi arrivare 3 secondi dove stai ando eh io sto andando dove cazzo mi dice sto quello su qua vieni ad alfonso la prossima andiamo là un figlio che rimane a ascoltare quando parlo qua c'è una scelta e non poter morire stai andando io sto venendo alfo francesco venite da me vieni da noi che se arriva qualche timmo ti ammazza vieni da noi ma dove stai andando qui ma dove vuoi? ma dove vuoi? dove è il? dove è lo scelto? ah ce l'ho io vieni qua stasera ce l'ho degli occhi ma non dormirò non dormirò non dormirò ma lei non mi trova mi chiamò tutto a bordo è ancora da luttare dove stai andando io ci vedo sto arrivando speriamo non c'è che sorraggia lo è un paio io tutto a scavo in potenza hai oggi ci presenti materiale a facci io devo stare a dare della casa beh cosa? no io scelta qua ci ci ho anche questo io volentieri non ce l'ho alla parte c'è la cinquanta ma non mi fate dire come vuoi io no non puoi vedere la voglia no io pure io pure aiutati allora aspetta che arriva da te un attimo colludo lasciamo un po' di legno io ma non lo so possiamo rilasciare ma non è che c'è chi ma chi sta non dobbiamo andare a trovare questo tesoro ragazzi venire qua mi arrivo prima ehi chi me lo fa tu dai il medico no no dammi il coso bro dammi il medico dammi il medico dai il medico dai il medico ti dà che giorni ragazzi dove andiamo che spamo ma che spamo andiamo allora quella ragazza l'avete buttata ruttata 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 raga sapete cosa ci fa una bussola in un pollaio vogliamo sapere niente un autobus un colare autobus cosa ci fa una bussola in un pollaio no indica il pollo sud e il pollo nord ah ok ragazzi andiamo ehhh ora sta riflettendo sulla mia esistenza dai ragazzi andiamo un secondo io sto finendo di distruggere ragazzi andiamo alfa andiamo dai ragazzi mi sto aspettando andiamo da bere andare andiamo qua io non ho niente io non ho niente scatto io non ho ragazzi ma la feca dall'altro lato ma l'altro l'altro l'abbiamo da passare per la nuova anche reggiorno ma che serve a fare cosa e dicio qua c'è uno degli cittadini se vuoi vai a pinnale dove ho messo il punto un poco qua tipo qua è la croce e là c'è una cassa con delle ragazze a questa cosa non sto dicendo di tantissimo a capire o non mi ha fatto soltare l'aria alfonso in che tra mezzare che parla mi stai avanti di strisci non mi vale altre parole la mappa se la prende le vende me li prendono i cani che alla notte un coglione sono cacciato meravigliate me li prendo le vende sì o no no perché grandi tele io da noi gli studi saranno i cani che sono iniziano i canini no te la scuaggni io dico le vende dammi bro prendi gli uenni e potele gatti si chiassa vieni e siamo iniziano c'è un'ращico grazie ma c'era un po' visite la casa di carta si però io voglio un po' mi sono seccato perchè non me la guardavo da un po' un po' a me manca il quarto della prima stagione ma non è che è bello è bello ci stavano ammazzano qualcuno delle persone l'ho mai dato davanti a noi sono davanti a noi quando mi sparano io sporo andiamo in safe e ma che sono a me mi spara non è che la guarda ci sono davanti a me 147 ma noi andiamo in safe è vero che ci sono sparati costruisci il legno calmeno burlone ragazzi da me davanti andiamo a fai d'arli venite io mi proteggo diciamo dall'alto mi dai il tempo di vita da pusciari dove sono aspetta aspetta ciccio ciccio ma mai era fermo no frae vai ma che fai io adesso usciamo tutti insieme ragà ma sono dentro la casa testa e andiamo a testi di burlone che volete fa a noi vogliamo che c'è mai davanti che luogo grazie a me buccia bando già hanno mutato però qua da me davanti però qua sotto sono qua sotto da me ragazzi dove qua sotto qua sotto sono venite dove qua sotto una terra la terra la terra vabbè c'è 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 l'ado io ho ho accanto a me io ho avuto a lavare no aspetta finiamo sto partito un po salute per favore degli amici non parlare di gioco non parlare però se non ci sconcentri gioco ci sono un amante per un città non guarda la mia città la gara di noi andiamo oa l'amore l'amore o ma alfa il patrici di qua e cura mi costruisci così sicura costruisci cura mi cura spacca la scala farà la mamma d'accordo la scala stacca io costruisco se io costruisco di c'è vista del zinco però ma ne ha vai e costruisce al lato indietro aiutami qua aiutami di qua fermo abbastati aiutami abbastati aiutami ma aiutami aiutami non ci vedeva nessuno fermo non sparare lo sparo io la bozza o tu? si sparatela tu ok prenditi questa cosa andiamo aspetta aspetta eh cazzo eravamo messi in mezzo ragazzi non potevamo fare niente non avevo visto ah 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 Ecco cosa è successo, ho già sciupato. Aspetta. 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 Aspetta un attimo che è successo un bordello. Era successo un problema, un attimo, scusate. Ok ci siamo, arco giù la... Sì. Acca vita. Grazie. Non mi è arrivato niente. Ok ci sono. Siamo pronto. Grazie. Ok. Grazie. Grazie. ok ok greco crea un portico io 3 secondi entro faccio sta partita entro ok ciao ok ragazzi dove ci buttiamo oh non mi calmo ovviamente non mi ma il puntin culato aspetta la notte non ci dà ok vabbè io vado qua ci incontriamo adesso c'è un problema non mi ha visto non mi ha visto no sono morto eh certo ovviamente aspetta la notte ragazzi vai greco oh metti il porti pubblico vai e giochiamo ti aspetto non ti sento niente sento un filino vai intanto mi faccio le singole mettilo privato fatto ok bravo allora asco al posto non mi fa non mi fa non sabes che la live va un pochino di secondi di tardi non mi fa non mi fa ti aspetto non mi fa non mi fa non mi fa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Lo so che ci vorrà tanto tempo Tanto tanto però Grazie a tutti 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 Grazie. 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 Ragazzi, parlate? Ragazzi, parlate? Ragazzi, parlate? Ragazzi, parlate? Ragazzi, parlate? Ragazzi, parlate? Agazzi, parlate? Grazie. 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 Che è che forto a un pao il nonno verde. Volete allora sto fanno fare il nonno verde. Ma ora morirà. vi lascio qua sto pompa il nonno verde che schifo te ne posso dare uno perché due no ne ho uno mi serve una solta e una mitra davanti a me c'è un medit te lo potresti fare bomber che cosa da me chi è che vuole il pompa nuovo io l'ho trovato leggendario era scaddato ragazzi ho fatto 150 si poi quella andava col cecchino no pigliattilo tu bomber danni vieni da me fatti sto medit così sei follo c'ho io c'ho io le bende ragazzi io lascio 5 scildini e qua c'è il medit venite a prenderli ok Grazie a tutti. Io ho tirato una jump. Da me c'è una mitraglietta grigia. E da me ci sono altri shieldini. Vabbè ragazzi, se ci sono altri shieldini li prendo io. Li tengo io. Vado a prendere, me lo bevo con lo shield a 50. Dov'è lo shield a 50? Ok. Chi è che ha shieldini da temerlo a me? Ma non è che sia tanto bello. Cioè per certe cose è bello, per certe no. Qu'è? Allora. Ragazzi avete trovato per caso un assalto in più di altri colori che non sia grigio Ok, qua gli altri sceldini, ok io sono a 6 E regà andiamo Andiamo verso qua, andiamo verso qua a lootare Tanto siamo già in safe Gente Scannato No, datemi la mitraglietta, no la mitraglietta verde, bomber, era la mia scusa Bomber, la mitraglietta verde, bomber Ah no scusa, vieni qua Alfa Bomber Allora Da già da ragazzi No, Alfa, Alfa, vieni da me Alfa, vieni da me, che io ti do il leggendario e tu mi dai l'epico Alfa, vieni da me Allora Davanti Ventotto, ventotto Oh Oh, regà, regà, regà Minano questi Michi, io che scassa cazzo Pure da qua sono Di dietro Ma non scanna, minchia, ma ne ha questo qua Di dietro Paolo Ma non scanna, minchia, ma ne ha questo qua Alfa, grazie ma è stata bella non mi rire bro non mi rire non mi rire vuoi che ti chiamano l'ambulante e poi stava moreando eh bro marilu stava morendo bello dove dobbiamo andare andiamo a borgo borgo regà a borgo regà regà manna ma bo io vada borgo figa non mori forte e e ma ma giro Grazie. 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 Ma chi è? Ma chi è? Ah, ma chi è Simone? No, aspettate, ma chi è? Oh, con calma. Simone e Silva. Silva, eh. Ma sei giocando a Fortnite? Vabbè, intanto mi faccio una partita con Massetta Steff. Sì, ci sono, ti sento. Ti sento. Ma mi senti? Mi senti, Aldo? Mi senti, Simone? Minchia. Perché non mi senti? Simone. Oh. Che cazzo è? Simone, mi senti? Mi senti? Ma che cazzo? Mi senti? Ma che cazzo è successo? Aspettate un attimo. Ma che cazzo è successo? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Eh, mi senti? Ma che cazzo è successo? No, cazzo è successo? Mi senti? Me sentiti? Mi sentite? Perché... Che cazzo... Grazie a tutti. Allora ragazzi per questa live finisce tutto ci vediamo alla prossima.